Il motivo per cui la FADO insieme con la FISM ha inteso realizzare questa scuola di alta formazione sul ragionamento clinico in era digitale è soprattutto la volontà in realtà di adeguarsi ai tempi ma di volere governare un fenomeno legato al progresso è assolutamente inevitabile. Già negli anni 50 Bertrand Russell disse che la velocità di evoluzione della tecnica che si autoalimenta non è pari naturalmente ma molto superiore a quella del pensiero. Il risultato è che le nostre conoscenze sono aumentate ma la nostra saggezza si è ridotta e lo scopo del medico internista che è il dottore degli adulti è proprio quello di mantenere questa saggezza. In realtà noi sappiamo bene come l'internista è il vero detentore della clinical governance questo ha lo scopo di mantenere sostenibile la salità pubblica, evitare il razionamento e razionalizzare le risorse indirizzandole nella giusta direzione. Tra le tante cose che questo tipo di affermazione comporta c'è naturalmente anche la necessità di evitare sprechi, sovrautilizzo di indagini, utilizzo di terapie costose e in questo sicuramente l'uso della tecnica e della digitalizzazione può essere di aiuto ma può essere di aiuto soprattutto se noi continuiamo a saperla governare e a mantenere la capacità di colloquiare con il paziente oltre ad utilizzare la tecnica, cioè dare peso e importanza alla storia del paziente, riappropriarsi della semiotica fisica rispettando l'evoluzione. La Fadoi sta organizzando un testo di semiotica del terzo millennio in cui ci si evolve anche nel essere capaci di poter fornire all'internista la possibilità di gestire mezzi come l'ultrasonografia che devono essere alla portata di tutti come da quando l'Ennec lo ideò, strumento fondamentale della nostra semiotica è stato l'ostetoscopio. Quindi sapersi evolvere nell'epoca della digitalizzazione significa essere perfettamente consci delle nuove evoluzioni in possesso non solo del medico ma anche dei pazienti e sapere mantenere però il dominio, continuare a mantenere la capacità del colloquio e del dialogo. In realtà ieri avevamo comportamenti dettati solo ed esclusivamente dalla saggezza clinica, però certamente meno conoscenze e minore supporto tecnico di quanto ne abbiamo oggi. Oggi abbiamo molte conoscenze ed uno spropositato sviluppo tecnico, ma una minore saggezza nel gestirli. Se vogliamo garantirci il futuro del domani dobbiamo ritornare ai modi e alla saggezza di ieri, però con la conoscenza e con le tecniche di oggi.